...hanno già lanciato la loro bandiera, adesso la chiocciola, l'oca, la lupa, la civetta... ...contrate che non corrono... ...montone, la tiraffa, il drago, l'aquila, la pantera... ...ecco, l'ultimo mi pare è il nicchio, il nicchio che è una comprata molto... ...ecco, io vorrei aprire una parentesi, il brupo è il nicchio adesso, sì... ...quando delle volte si gira per l'Italia, ecco, si sente parlare di sbandieratori... ...allora ogni tanto qualcuno, io ovviamente un pochino me la tiro perché ritengo di essere ormai un po' senese... ...ma arrivano quelli di Siena, no, perché ovviamente è vietato, ecco, spiegacela... ...questo per dimostrare la serietà di questa tradizione, di questa festa... ...cioè vale a dire, le bandiere delle contrade di Siena non potete uscire le otto contrade... ...non un po' più usi, però insomma essere dal secondo al quarto posto è una posizione migliore... ...ecco, vedete un... ...colori della giraffa... ...la giraffa ha vinto l'ultimo pariolo scorso anno d'agosto... ...eccoli che escono... ...allora il primo è il nebbicchio con il blu turchino, la giraffa che abbiamo detto bianca e rossa... ...poi c'è il drago, rosso, verde, listato di giallo... ...poi il leocorno con l'arancio e bianco listato di blu... ...donda, bianco e celeste... ...poi abbiamo la selva che è appunto arancio e verde... ...il brutto, giallo e verde... ...e l'aquila che è giallo... ...vedete che i fantini salutano le comparse rispettivamente ovviamente delle proprie contratti... ...e hanno ricevuto il nervo di bue che è quello strumento micidiale... ...poi magari Bastiano ci dirà anche quanto fa male, non so se lui l'ha mai sentito... ...comunque è questo nervo di bue con il quale i fantini possono sollecitare i propri cavalli... ...ma possono anche ostacolare e nervare i fantini delle contrade avversarie... ...questa sera diciamo la particolarità è che oltre a essere otto invece che dieci le contrade... ...non c'è una coppia di contrade rivali... ...quindi a rigore, almeno sulla carta, potrebbe essere un palio diciamo così più sereno... ...ma questo è sempre relativo... ...tanto vediamo Bruschelli, Luigi Bruschelli detto frecciolino che è il fantino di questa compagine... ...quello che ha vinto il maggior numero di carriere... ...ecco Silvano, in questo momento qui ancora non sappiamo qual è l'ordine d'ingresso tra i canadi... ...perché c'è un meccanismo, il sorteggio del posto al canapi... ...prima parlavamo dei primi quattro posti, della rincorsa, però a tuttora è segreto... ...viene trascritto proprio in questi momenti un foglio che verrà consegnato poi da un vigile urbano al monsiere... ...e i fantini sono in questo momento in attesa di sapere chi saranno e quale sarà l'ordine d'ingresso tra i canadi... ...importantissimo questo momento qui... ...la cosa di canapi si può già presagire un'uscita più o meno buona... ...quindi ora ci avveranno i giorni che hanno presciuto la carriera di oggi... ...abbiamo visto un'ottima posizione, vedo che almeno forse... ...ha già partito durante il secondo posto perché ci sono alcuni cavalli che sono abbastanza agitati... ...perlomeno è una giraffa, un'altra contrada che ha delle buone chance... ...si, i cavalli e i cavalli vanno forti, quello del Leocorno, quello dell'Ungra, quello della Patera... ...ci sono... ...emozionato... ...como che sono cavalli ma nell'altro c'è poca differenza... ...quello del Bruco è un buonissimo cavallo... ...o come dire... ...forte... ...revolare per cui si parte in un ipotromo con le gabbie... ...le 99 sui cavalli ci sono tante componenti... ...el Bruco... ...la ricorsa è come una bella donna con tanti uomini intorno... ...nessuno la vuole mollare... ...poi chiaramente ognuno di questi ragazzi cercherà di prendere dei vantaggi... ...ecco, vedete il già dare la mossa buona a una contrada invece che a un'altra... ...o avvantaggiare o svantaggiare... ...credo che in questo momento con un tipo di mossa... ...i motivi e così... ...delle lungaggini diciamo... ...prima di entrare possono essere svariati... ...è strano un po' per le prove perché normalmente per le prove... ...ifontini cercano di trarre il massimo vantaggio possibile dalla loro posizione... ...perché le posizioni variano abbastanza... ...dato che le prove conoscono in anticipo quale sarà l'occhio d'ingresso... ...quindi si possono anche accortare tra di loro... ...oh vedete sempre inquadrato... ...se sembra leciti per la festa... ...se no regolavano non li contendano... ...è la prima volta che li vediamo... ...è sempre l'onda in testa verso la prima curva del casaco... ...onda prima... ...Giraffa... ...Nicchio che con la posizione... ...è caduta il mio corno... ...siamo al secondo giro di piazza... ...è sempre l'onda in testa... ...incalzata dalla Giraffa... ...terza posizione per l'Aquila... ...vedete Trecciolino si gira alle spalle... ...però è sempre lui... ...lui in prima posizione... ...incalzato dalla Giraffa... ...Nicchio rimonta... ...vedete... ...Nicchio terza posizione... ...seconda curva del casaco... ...se sembra in questo momento... ...che non ci sia battaglia... ...anche se la Giraffa cerca di guadagnare... ...consezione per sempre Trecciolino... ...per questo terzo e ultimo giro di piazza... ...vedete l'onda in testa di parecchie incollature... ...rispetto alla Giraffa e al Nicchio... ...taglia per primo... ...la terza curva di San Martino... ...rischia quasi di cadere... ...ma va avanti, va avanti... ...corre, corre come il vento... ...verso la terza e ultima curva del casaco... ...è l'onda... ...è l'onda... ...incalzata dal Nicchio... ...ma è l'onda... ...bianco ceresco... ...questo palio... ...medicato alla Madonna di Provenzano... ...attenzione... ...chi sotto di noi stanno arrivando... ...i cavalli e l'onda... Luigi Bruschelli... ...detto Trecciolino su Ivanov... ...ha vinto un palio bellissimo... ...molto lottato... ...è partito in testa... ...e ha saputo rintuzzare gli attacchi... ...prima dell'onda... ...poi del trago... ...poi della giraffa... ...e del nicchio... ...infine... ...all'onda... ...vale la pena ricordarlo... ...pensate... ...non vinceva da luglio del 95... ...e Trecciolino con questo palio... ...arriva alla bellezza di 13 pali vinti... ...un grande successo... ...un grande cavallo... ...una grande corsa... ...è stata una corsa veramente... ...splendita... ...molto lottata... ...sono stati bravi tutti... ...hanno spinto... ...pietro... ...la giraffa... ...soprattutto la giraffa... ...che è andata al secondo posto... ...scusate... ...ma guardate... ...il contrattaioli... ...lui ha quasi paura... ...tivore di questo... ...abbraccio affettuoso... ...della contrata dell'onda... ...lo vedete... ...non vuole scendere da cavallo... ...perché giustamente... ...e scendere poi in quelle circostanze... ...può diversare anche per i coloni... ...vedete... ...il contrattaioli... ...che sotto... ...lo invocano... ...dicendo... ...cencio... ...cencio... ...una contrata che non vinceva da tanti anni... ...al 95... ...al 95... ...quindi... ...è un... ...mentre il treggiolino ancora... ...a cavallo... ...stanno arrivando ancora a festeggiarlo... ...mentre anche il cavallo... ...sta fermissimo... ...e si prende tutti gli abbracci... ...e le carezze... ...è caduto soltanto il leocorno... ...al... ...al primo casato... ...e gli altri sono... ...rimasti in groppa... ...alternandoci un po' all'insegnamento... ... dell'onda... ...ma sembrava... ...impossibile... ...esatto... ...mi sembrava ormai... ...fosse veramente... ...valesemente scritto nei colori dell'onda... ...a questo palio... ...perché... ...non c'è stata storia... ...nel senso che... ...Crecciolino è partito subito... ...per primo... ...c'è stato un tentativo... ...da parte della giraffa... ...poi in parte... ...un nicchio... ...all'inizio forse... ...un po'... ...la vediamo... ...vogliamo rivedere la corsa... ...e sentiamo anche un commento... ...da parte di Bastiano... ...come ha visto questo palio... ...e non partire... ...l'Aquila... ...e la giraffa... ...e anche la giraffa... ...eh sicuramente... ...poi essendo all'interno... ...l'onda ha avuto... ...grossi vantaggi... ...stavo molto bravo Gigi... ...l'ultimo San Martino... ...a rimanere a cavallo... ...quando il cavallo ha avuto... ...un cedimento... ...el cavallo... ...quì... ...tutti tengono su... ...il nicchio ha fatto un'altra entrata... ...mentre il leocorno è caduto... ...proprio... ...sulle gambe dell'Aquila... ...ecco... ...l'Aquila è rimasta attartata... ...dopo la partenza... ... riesce a superare nuovamente... ...Nicchio... ...intanto Frecciolino... ...si volta indietro... ...e guarda la giraffa... ...che sta arrivando molto forte... ...e sta nervando... ...come del resto tutti gli altri... ...e anche Nicchio... ...Aquila... ...stanno nervando forte... ...e loro cavalli... ...per cercare di guadagnare... ...qualche metro... ...ma... ...sebra che il divario... ...tra l'onda... ...e la giraffa... ...e tutti gli altri... ...sia praticamente impolmabile... ...dopo la partenza... ...si sta facendo sotto... ...anche lui... ...ma è un po' tardi ormai... ...e Trecciolino... ...sta arrivando al secondo... ...casato... ...in maniera molto tranquilla... ...l'Aquila... ...l'Aquila... ...poi la Selva... ...in penultima posizione... ...e il gruppo... ...ultimo a chiudere... ...insomma diciamo che... ...a cavallo... ...perché il cavallo ha avuto... ...un... ...un ciampone... ...di quelli proprio... ...eh Silvano... ...un ciampone in quel modo lì... ...in genere... ...fa cadere al terzo giro... ...molto bravo... ...perché il cavallo... ...gli ha inciampato... ...è rimasto sul collo... ...e l'equilibrio... ...si è ritirato su... ...onore al merito... ...un grandissimo palio... ...quì ecco... ...el trionfo... ...ell'arrivo... ...triomfante... ...con il Nicchi... ...in seconda posizione... ...e Trecciolino... ...che vince il suo... ...tredicesimo palio... ...si sta avvicinando... ...eh... ...a grandi passi... ...al record di Aceto... ...quattordici... ...se non sbaglio... ...credo che Aceto... ...ora abbia le palpitazioni... ...al cuore... ...dor... 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 ...dor...